salve a tutti ragazzi bentornati su the science lab oggi faremo un tutorial insieme dato che quest'estate particolarmente torrida ci rinfrescheremo facendo della neve casalinga utilizzando dei semplici ingredienti che troviamo al supermercato ovvero bicarbonato di sodio e schiuma da barba andiamo a vedere come si fa per il tutorial ci serviranno del bicarbonato di sodio della schiuma da barba e un contenitore in vetro per iniziare l'esperimento aggiungiamo del bicarbonato di sodio all'interno di un becker agitiamo bene la schiuma da barba e aggiungiamola al bicarbonato mischiamo il tutto fino ad ottenere una polvere simile alla neve soffice e compatta alla prossima Anche per l'esperimento di oggi ragazzi è tutto, mi raccomando iscrivetevi al canale che ancora non vi faccio per rimanere sempre aggiornati, seguitici sui nostri social, sulla pagina Facebook e qui su Instagram, condividete il video con i vostri amici e andate a leggere l'articolo correlato alla tematica di oggi. Ciao a tutti ragazzi!